Rimodernare patti e riportarla alla guida del comprensorio. Se è questo l'obiettivo dei candidati a sindaco e dei gruppi che li rappresentano, ci sono tre idee progettuali da porre all'attenzione generale. Il Festival del Pane e del Vino, il più grande parco euro-mediterraneo del benessere e della bellezza ed il minimo di lavoro garantito per ogni nucleo familiare. La titolarità di queste idee è di Carmelo Favazzo, esperto di progettazione europea, divenute una lettera aperta ai candidati a sindaco della città. Il Festival internazionale del Pane e del Vino che coinvolga i paesi del Mediterraneo per mettere al centro l'importanza del pane nella storia dell'umanità e nelle tradizioni, puntando a valorizzare gli aspetti culturali, religiosi, storici, musicali, turistici ed economici. Il più grande parco euro-mediterraneo del benessere e della bellezza è un'idea già presentata dal Consorzio Noe e dal Consorzio Tindari-Nebrodi, quale contributo al recovery plan per una vasta area che comprende i Nebrodi e le isole Olie. Per raggiungere questo obiettivo il primo passo dovrebbe essere l'adesione al più grande parco euro-mediterraneo del benessere e della bellezza con patti promotore. Infine è un progetto sperimentale, quello del minimo di lavoro garantito per ogni nucleo familiare già approvato in un bando europeo molto prima che entrasse in vigore il reddito di cittadinanza, ma non finanziato, pur essendosi posizionato tra i primi per mancanza di risorse. Ha bisogno soltanto di essere adeguato ai cambiamenti intervenuti, visto che oggi le risorse ci sono. Si muove su un percorso trasparente, controllato dal Centro per l'Impiego, presente nel Partenariato, che ha partecipato alla stessura del progetto con forme di collaborazione originali tra pubblico e privato. Patti è favorita anche perché è capofila del distretto sociosanitario. Carmelo Favazzo, nel presentare queste idee per chi le riterrà utili e interessanti, potrà considerarle parte del suo programma con un unico vincolo. Qualsiasi sarà il loro risultato, alla guida della città o all'opposizione, dovranno assicurare un impegno a sostenerle nell'interesse della collettività.